Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti ad Americana, la striscia quotidiana in cui Barba Sofia si occupa di Stati Uniti e dintorni, manca pochissimo, ci siamo, domani è l'Election Day, la giornata che sancirà o la vittoria, la rivincita di Donald Trump dopo tutto quanto è accaduto, dopo le vicende di Capitol Hill, dopo le denunce, dopo le accuse dopo i tentativi anche di renderlo incandidabile, dunque sarà la rivincita di Donald Trump oppure la giornata della vittoria di Kamala Harris giunta negli ultimi tre mesi alla candidatura è entrato in corsa per supplire ormai al Biden, allo stanco Biden e dunque ha sostituito un candidato in corso, una cosa molto rara nelle elezioni americane, i sondaggi sia quelli italiani, per quello che è contro, quelli italiani, quelli riportati appunto dai media italiani, ma i sondaggi soprattutto quelli americani danno il testa a testa con forse Donald Trump in vantaggio in Pelsilvania, ma c'è un altro fattore veramente inquietante, la Guardia Nazionale è stata mobilitata nell'Oregon e a Washington per preoccupazioni di attentati o per la preoccupazione che i gruppi di estrema destra vogliano presidiare i centri elettorali, i seggi elettorali per vedere, dicono loro, che tutto sia regolare oppure per non accettare eventualmente l'esito elettorale siamo comunque di fronte a una campagna elettorale durissima, forse la più dura degli ultimi veramente 50 anni con quest'ombra, Trump riconoscerà eventualmente una sconfitta, Kamala Harris e Democratici come si comporteranno qualora dovesse vincere Trump con tutte anche le minacce portate avanti da Trump rispetto ad esempio alla libertà di stampa Trump non vuole togliere la libertà di stampa, probabilmente direte voi cosa stai dicendo Saudino ma ieri nell'ultimo commissio durissimo contro i giornali, contro i giornalisti, portatori di fake news, di manipolazione e dunque ha annunciato un giro di vite contro l'informazione, contro le fake news e comunque nel mondo liberale americano con tutti i suoi limiti è un atteggiamento molto aggressivo un atteggiamento anomalo, ma Donald Trump ha fatto sempre del suo essere controcorrente una slider, uno spavaldo, uno spaccone, il suo punto di forza ne parlo stamattina con i miei allievi in classe parlando della figura dello spin doctor come i nuovi sofisti gli spin doctor costruiscono i discorsi, la campagna elettorale, i dialoghi la posizione politica da avere per il Presidente della Repubblica per i candidati al Presidente della Repubblica Estranitense cosa devi dire quando siamo qua nell'Ohio, in Pennsylvania, nel South Dakota come comportarsi riguardo l'aborto, il salario, l'Iraq, l'Afghanistan, l'Ucraina, Putin rispetto all'Unione Europea, costruiscono le argomentazioni, costruiscono gli interventi costruiscono proprio i discorsi del tycoon o in questo caso o nell'altro caso di Kamala Harris e dunque gli spin doctor di Obama, di Bush il gruppo che prepara per la campagna elettorale nei contenuti, nella forma, forma e sostanza ebbene, spesso gli spin doctor di Trump sono messi mai nei capelli nel senso che lui è un cavallo pazzo, anche un cavallo pazzo, anche libero dice, io dico quello che voglio, non mi faccio dire cosa devo dire e dunque ci sono delle affermazioni che a volte fa Trump che sono assolutamente controproducenti per i propri spin doctor, per i propri consiglieri altri invece consiglieri hanno detto, no, spingi, accelera, insulta perché il tuo elettorato ti ama così, non c'è nessun politico che in Europa parli il linguaggio di Trump, che usi il linguaggio di Trump, l'espressione di Trump da noi non c'è quel tipo di destra conservatrice anche la destra populista italiana, da Vannaccia Salvini alla Marine Le Pen o francese o quella austriaca o la destra tedesca, per non parli quella polacca o quella di Orba non usano questo linguaggio questo è il linguaggio di un uomo molto ricco, il linguaggio di un uomo fuori dagli schemi che vuole veramente rovesciare il tavolo quando arriva alla Casa Bianca riprendere il lavoro interrotto, è l'uomo che mette davanti a se stesso i suoi successi davanti a tutti gli altri, affidatevi a me è un uomo della provvidenza, ma è anche un uomo della tradizione è un uomo dunque contro l'establishment, nonostante sia stesso establishment e porti con sé Musk, dunque vediamo cosa dirà perché ieri vi ripeto, oltre ad aver detto pagheranno i giornalisti pagheranno i mezzi di informazione che mi stanno danneggiando con delle fake news con tutti i sondaggi inventati pagheranno vediamo se riconoscerà l'eventuale vittoria di Kamala Harris perché anche nel comizio di ieri ha detto una cosa che comunque in democrazia è inquietante ha detto appunto che vogliono togliergli la vittoria e come dire se io perderò non ho perso in maniera onesta e corretta mi hanno derubato e addirittura ha detto ho sbagliato l'altra volta alla fine a riconoscere la vittoria di Biden mamma mia, chissà se farà tutto ciò e Kamala Harris? Kamala Harris ha avuto un po' di un colpo di coda è riuscita a portare al voto i lavoratori, le minoranze etniche è riuscito a rassicurare il centro democratico borghese è riuscita, ha avuto tantissimi soldi a disposizione l'hanno finanziata gli elettori singoli ma anche le grandi lobby così come gli elettori singoli delle lobby hanno finanziato ovviamente Trump è riuscita a recuperare in Pennsylvania sembra in vantaggio appunto, vi dicevo prima, Trump ed è decisivo come anche in Arizona Trump sembra in avanti vediamo veramente se è una sfida all'ultimo voto ma la cosa che è importante sarà capire se si riconosceranno reciprocamente in questi giorni su una piattaforma televisiva Prime è a disposizione Civil War guardate un film che racconta gli Stati d'America che giungono a una guerra civile giungono alla guerra civile, alla guerra del Peloponneso si uccide tanto citata da Thomas Hobbes, l'incubo di Hobbes ci vediamo domani per commentare a caldo le prime proiezioni per commentare a caldo chi otterrà il golden number, i 270 appunto grandi elettori per poter diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America a domani